Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Tukens e benvenuti in un nuovo video guida per quanto riguarda le sfide della tempesta di ghiaccio di Fortnite. Oggi è il terzo giorno ed anche oggi sono uscite due sfide giornalieri. Nel primo video che vi lascio qui sopra tra le schede e sotto in descrizione abbiamo visto come portare a termine la prima sfida, quella che ci richiede di distruggere delle fiere del ghiaccio ad una certa distanza. In questo video ragazzi andremo a vedere come portare a termine la seconda missione, ossia quella della distruggere dei buruti del ghiaccio dorati. Come sempre ragazzi, prima del video vi invito a lasciare un bel like con un commento, se volete essere salutati nel prossimo video lasciate l'hashtag salutami, io saluto Cristian Giaudi, Claudio Raffaelli e Giulio Ferrauto che nell'ultimo video mi hanno chiesto di essere salutati, condividete il video con i nostri amici ed iscriviti al canale mi raccomando attivando la campanella per non perdere le notifiche nei futuri video video. Come detto in questo video andiamo a vedere come portare a termine la missione che ci richiede di eliminare degli zombie dorati. Da come avete potuto vedere per portare a termine questa missione ne dovremo eliminare 20. Questo ragazzi è un numero molto esigo rispetto ai 250 oppure ai 100 delle missioni dei giorni precedenti. Questo perché di zombie dorati non se ne trovano tantissimi. Io personalmente ho trovato questa tipologia di zombie verso la fine della partita. Ho fatto più o una decina di partite e la coincidenza appunto è stata che li ho trovati sempre verso la fine dell'endgame, quindi verso la fine del match. Non so ragazzi se voi avete trovato questa tipologia di zombie a inizio partita, quindi nelle prime rocce innevate con un commento fatemelo sapere. È utile anche per le persone che guarderanno questo video. Quindi ragazzi vi chiedo una mano, condividete anche voi qui sotto la vostra esperienza di gioco. Come sempre spero questo video vi sia stato utile, mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, con un commento, l'hashtag salutami se volete essere salutati nel prossimo video. Come detto condividete il video con i nostri amici ed iscrivetevi al canale. Come sempre vi ringrazio della visione e ci vediamo al prossimo video.